Sindaco, vuol rispondere al Presidente della Triestina che ieri ha detto cattivi rapporti con il Comune, se non abbiamo Rocco potremo anche andare via? Non rispondo, non dire così. C'è una provocazione questa? No, io rispondo invece che abbiamo messo 8 milioni in quattro anni fa per rifare Rocco, che è uno dei più bestati d'Italia. Dopo c'è stato questo inconveniente che sicuramente con la riloggiatura eccetera eccetera, però sto dicendo che la federazione è favorevole, il mio agronomo è favorevole, è quello che gestisce, se mi consenti, San Siro. Adesso sono loro che devono decidere, fra 9 giorni, perché mancano ancora 9 giorni, possono giocare a Rocco, è una decisione della Triestina, altrimenti se vogliono procrastinare fino al Vicenza. Queste sono le decisioni, ripeto, ormai il campo è a posto, lo hanno detto gli agronomi e loro possono tranquillamente... Ieri l'agronomo vostro e l'altra persona ha detto sì. No, l'agronomo nostro e la federazione, che deve ancora arrivare l'ufficialità, ma ho parlato stamattina con Castelli, hanno dato il benestare, per cui fra 9 giorni la Triestina può giocare, è una decisione della Triestina adesso. E' rimasto un po' sbalordito dalle dichiarazioni del Presidente, visto che la restazione è questa? Io non rimango mai sbalordito, una volta corre la lepra, una volta corre sempre il cane.